Poco personale ATA nelle scuole toscane. La FLC Cigella in questi giorni ha lanciato un allarme promettendo mobilitazioni. Da lì qualcosa si è mosso, l'ufficio scolastico regionale e il ministero hanno cercato un po' di rimpolpare gli organici. Come è andata e quali sono i numeri in Toscana? Allora, come sempre all'inizio dell'anno scolastico il personale ATA viene dato con il contagocce perché è la voce di spesa che viene ritenuta la meno utile. In realtà questo personale è fondamentale per il funzionamento della scuola. C'era stato dato un primo contingente in aggiunta a quello ordinario e poi un secondo contingente che c'era stato presentato 107 posti che poi improvvisamente e immotivatamente sono stati decurtati di 12 posti. Ora, 12 posti sembrano pochi, in realtà sono tantissimi perché in una scuola una persona alle volte fa anche la differenza. Per cui attraverso una rivendicazione che abbiamo fatto, un avvio di mobilitazione, l'ufficio scolastico regionale è tornato indietro e sono stati riassegnati 12 posti. Per cui noi abbiamo accanto all'organico ordinario, abbiamo ulteriori 600 posti che sono stati dati nel complesso alla Toscana. Secondo noi sono pochi, ne deve arrivare di più, per questo chiediamo alle scuole, per iscritto, tutti insieme, di segnalarci le ulteriori necessità. Il personale ATA è fondamentale per la sorveglianza degli alunni e per l'assistenza a ragazze e ragazze disabili. Perché non possiamo permetterci che ci siano carenze? Purtroppo c'è sempre bisogno del fatto eclatante. In questi giorni, ahimè, è morto un bambino a Milano, un bambino di sei anni, che ha scavalcato la balaustra di una scala del piano dove c'era l'aula del bambino al terzo piano. Noi abbiamo bisogno del personale ATA, come diciamo sempre noi, perché il personale ATA fa parte a tutti gli effetti del processo educativo e garantisce la sorveglianza degli spazi comuni, perché se l'insegnante rimane in classe e un bambino esce e va in bagno ha bisogno di avere un adulto nei dintorni. Questo vale per i piccoli, ma anche per i grandi, perché i grandi poi escono, magari fanno altro, non si buttano dalla balaustra, ma fanno altro. Abbiamo bisogno di personale adulto nella scuola e in più abbiamo bisogno di personale che dia una mano sull'assistenza agli alunni disabili. Ricordo che in Toscana quest'anno crescono di oltre 700 unità gli alunni disabili, arrivando quasi a 15.000 unità. Scuole paritarie. Il sindacato chiede le stabilizzazioni dei docenti precari, integrando i limiti del decreto dignità. Perché e cosa comporterebbe questo per la Toscana? Allora, in Toscana, come molte altre regioni del centro nord, le scuole paritarie sono tenute in piedi da personale spesso, come dire, precario, perché le scuole, chiaramente nelle scuole paritarie c'è molto giro di personale, perché appena possono, chiaramente gli insegnanti si trasferiscono nella scuola statale. Il decreto dignità approvato dal precedente governo impone alle imprese di non reiterare i contratti a termine. Nelle scuole paritarie succede un fenomeno particolare. Le scuole dovrebbero assumere a tempo indeterminato questi docenti, ma non lo possono fare laddove non sono abilitati. E purtroppo questi insegnanti non sono abilitati. Perché non lo possono fare? Perché altrimenti mettono a rischio la propria condizione di scuola paritaria. Perché per essere scuola paritaria devono avere gli insegnanti abilitati. Per cui la richiesta che arriva dai segretari è proprio quella di procedere velocemente a dei percorsi abilitanti che permettano la stabilizzazione di questo personale e quindi nel frattempo procederà a una deroga del decreto dignità. Nel 2020 si celebra il centenario della nascita di Gianni Rodari. La FLC CGL lo ricorda con un'agenda e con il solito impegno antimilitarista. In Toscana in questi giorni avete partecipato alle manifestazioni contro l'attacco turco ai kurdi, così come prima avevate partecipato a quelle di Friday for Future per la difesa dell'ambiente. Ecco, pace e ambiente, cosa rappresentano per il mondo della scuola? Allora, io penso che questi due temi siano, come dire, l'elemento su cui le nuove generazioni possano ricostruire un impegno civile e sociale. La pace si coniuga perfettamente con un ambiente dove lo sviluppo sostenibile sia il nuovo orizzonte per le generazioni. La pace è un elemento fondamentale. Viviamo proprio in questi giorni un momento non solo di guerra, che continua la vicenda dei kurdi è drammatica, ma anche di rifresa del conflitto sociale. Penso al Cile, a ciò che sta accadendo lì, penso alla Spagna. Noi pensiamo che l'occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari possa essere un'opportunità, perché attraverso le sue opere, il suo impegno pedagogico didattico, le sue poesie, si possa fin da piccoli coinvolgere i bambini sull'idea che un altro mondo è possibile. E l'esperienza, le storie, la vita artistica di Gianni Rodari ne sono un esempio.